Oh, Roazzi, tutto bene? Cosa ha detto? Tutto bene? Ma no. Diciamo che comunque abbiamo visto e notato il suo ultimo grande successo, il successo che ha fatto, andiamo a festeggiare, andiamo a lavorare, andiamo a procreare, come si chiama? Andiamo a comandare. Andiamo a comandare, sì. Andiamo a comandare. E in pratica, siccome ha riscosso tanto successo, abbiamo deciso di farne un altro. Ma di che? E un altro successo, un altro brano, un'altra hit che andrà a spopolare sui social, sulle radio, quant'altro. Sì, ma le dico, io non sono assolutamente... Qui abbiamo il suo contratto con tanto di sua firma, Fabio Rovazzi, qui sotto, quindi per il prossimo singolo, noi ci aspettiamo tante cose. Proprio è che io non sono Fabio Rovazzi. Ma non me ne frega chi è lei, fondamentalmente, a me non interessa, io penso alla mia tasca, fondamentalmente, al mio denaro, al mio rientro, anche perché io lavoro e ho un'azienda da mandare avanti. Quindi Rovazzi, se impegni, altrimenti le portiamo via la vita. Rovazzi è nostro per i prossimi trent'anni. Quindi le portiamo via la casa, il marito, la moglie, la suocere, il nipote, il gatto, la macchina e quant'altro. Quindi, appunto per questo, deve fare qualcosa. Quindi, vada. Vada, vada. Ma, in pratica, che cosa dovrei fare io? Ma, in pratica, che deve fare? Crei? Cioè, crei, Rovazzi. Quelle cose che piacciono tanto ai giovani di oggi, che stanno nel computer, Shazam, Twitter, Dropbox. E quelle cose lì. Candy Crush. Candy Crush, bravo. Bravo, e adesso vada, 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 Rovazzi. Crei, crei. Rovazzi, 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 Rovazzi. Nelle foto sui social sono molto somigliante. Selfie insieme con gli amici, sembriamo dei pazzi. Dici che mi conosci, hai visto il video spopolante. Fai una foto, poi la posti e tanchi rovazzi. Ammetti che la somiglianza è proprio impressionante. Fai la da beccanti, tutto molto interessante. E poi mi proponi una serata in discoteca. Ti dico io chi sono, ma te, non te ne frega. Guarda che io sono, ma te, non te ne frega. Ripeto, io non sono, ma te, non te ne frega. Sono solo molto somigliante. Sono solo molto somigliante. Sono solo molto somigliante. Sono molto somigliante. Prima non mi conoscevi ed in giro mi evitavi. Ora a un fratto siamo amici e con il tuo gruppo dice. Ci andiamo a comandare ed iniziate anche a ballarla Io rimango l'interdetto Oh ma perché non parla? Nel giornale di oggi c'è la mia foto profilo In grassetto scritto in alto ragazzo prodigio Mi arriva una chiamata con un'offerta allettante Sono Fedez che ne dici cena al ristorante Mi viene a prender con un'auto a dir poco mega Ti dico io chi sono ma lui non gliene frega Guarda che io sono ma lui non gliene frega Ripeto io non sono ma proprio non gliene frega Son solo molto somigliante Son solo molto somigliante Son solo molto somigliante Mi ferma un ragazzo che vuol farmi una ripresa Ormai tutto intontito mi ci metto pure in posa Quando alzo gli occhi però mi ritrovo a casa Entra anche mia mamma forse a chiedermi qualcosa Guarda che so chi sei ma a me non me ne frega A questo punto dico anch'io che me ne frega Non ci importa chi sei o meglio non ce ne frega Non ci importa chi sei o meglio non ce ne frega Non ci importa chi sei o meglio non ce ne frega Non ci importa chi sei o meglio non ce ne frega